Sono veramente contento, peccato che sarà l'ultima giornata in terra siciliana, però ci sarà tutto l'affetto, ho già dimostrato questa mattina a Bedara e anche ieri sull'Etna. Abbiamo cercato di affrontare al meglio queste tappe e andiamo avanti. Tu, grande scanatore, ti prepari per l'ultima settimana, per Medolodì? Vediamo, comunque la strada sicuramente sarà più importante e dimostrano più, verso la fine del giro, di stare bene, di avere la condizione, di pedalare bene. E poi vediamo, al di là di quello che sarà il risultato, comunque sono veramente contento dell'affetto che è stato dimostrato nei miei confronti. Salute ufficiale al sito del comune di Bedara. Dopo, lei prima ci sono... Prova di nuovo. No, scusate. Già di vedere un uomo così presto come... Sono cose che purtroppo possono capitare. Purtroppo è successo questo, si è visto l'immagine di... Rosa. Di... Prima di Moreno, però c'è anche l'immagine di Rosa che ha reagito anche. Grazie.